Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Tommaso Trussardi sbotta sui social e asfalta terribilmente Michelle Lunsicher senza pensarci su due volte Questa volta davvero ci è andato giù pesante. Ecco che cosa è successo tra i due ex coniugi Michelle e Tommaso.Tensione alle stelle tra Michelle Lunsicher e Tommaso Trussardi L'imprenditore di moda asfalta la ex sui social. I fan sono senza parole Tensione tra Tommaso Trussardi e Michelle Lunsicher.Ormai la storia tra Michelle Lunsicher e Tommaso Trussardi è definitivamente archiviata Il 18 gennaio 2022, con un comunicato affidato all'Ansa, la conduttrice svizzera e l'imprenditore di moda annunciavano a tutta Italia la fine di un amore durato 10 anni Trussardi è un psicher.Le ragioni che li hanno portati a separarsi? Ancora oggi non sono state rese note Tanto la svizzera quanto l'italiana, cercano di mantenere riservate le motivazioni che li hanno spinti a dirsi addio dopo tanti anni d'amore di due splendide figlie Mentre lei si è subito consolata con un altro, il medico Giovanni Angiolini, ex protagonista anche del grande fratello 14, lui a quanto pare è ancora single Anche se hanno dichiarato di essersi lasciati in buoni rapporti, si percepisce ancora una certa tensione tra i due Avete visto che cosa ha fatto Tommaso Trussardi? Ha asfaltato la ex moglie proprio su social L'imprenditore di moda asfalta Michelle.Nel comunicato Ansa risalente al 18 gennaio 2022, nel quale Tommaso e Michelle annunciavano la fine del loro amore Si leggeva che i due, nel pieno rispetto del bene che si sono voluti e per l'amore delle figlie nati dalla loro unione, si separavano in armonia Ma, a quanto pare, a distanza di mesi da loro addio, ancora c'è tensione nell'aria Tommaso e Michelle.Avete visto che cosa è successo nelle scorse ore? Il 6 aprile Trussardi ha spinto 39 candeline e per il suo compleanno ha organizzato una serata di beneficenza insieme ad alcuni amici importanti del mondo dello spettacolo e tra questi Mari Capellegrinelli, Elisabetta Franchi e Melissa Satta Compleanno Trussardi.Assente alla serata, l'ex moglie Michelle che non ha dedicato nemmeno un pensiero via social all'ex marito Il gesto della conduttrice svizzera non è passato inosservato agli occhi dell'impresario di moda che ha asfaltato pubblicamente la sua ex compagna Trussardi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto nella quale lo si vede felice spegnere una candela su una torta L'imprenditore ringrazia tutti per gli auguri ricevuti ed è a questo punto che lancia una clamorosa stoccata alla sua ex scrivendo Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi si è dimenticato La sua frase è forse indirizzata a Michelle che non si è degnata di dedicargli un messaggio il giorno del suo compleanno? Intanto, i follower si sono scatenati Molti hanno difeso la conduttrice svizzera affermando che se non ha fatto gli auguri al suo ex, un motivo ci sarà Grazie a tutti